Cari soci ed amici, approfitto dell'invito di Gianni a descrivere quello che è accaduto venerdì e ovviamente uso il sistema vocale perché così facciamo molto più in fretta, sarò sintetico. Sapete benissimo che nel mese di novembre insieme con altri astrofili della Campania, precisamente Antonio Marino e Andrea Tomacelli dell'Unione Astrofili Napoletane e Nello Ruocco dell'Associazione Astro Campania, ma proprietario di un osservatorio privato, abbiamo scoperto una stella variabile nella costellazione del Dragone, grazie anche alla possibilità di gestire il nostro osservatorio in remoto a seguito della remotizzazione della struttura effettuata circa un anno e mezzo fa dal nostro socio Lattanino Cupolino. Tra i tanti riconoscimenti e le tante soddisfazioni che sono scaturite a seguito di questa scoperta abbiamo ricevuto quest'altro graditissimo riconoscimento del premio Terra Laboris 2017. Che cos'è questo premio? Allora questo premio è stato istituito da un'associazione identitaria che si chiama Alta Terra di Lavoro di cui tra l'altro è vicepresidente il nostro socio Fiorentino Bevilacqua che ha come obiettivo promuovere e valorizzare il territorio dell'ex regno delle due Sicilie quindi non soltanto organizzare convegni, mostre, iniziative sulla storia del regno delle due Sicilie ma anche valorizzare tutte le realtà che fanno parte del territorio di quello che un tempo era il regno borbonico. Ecco, tra le varie iniziative hanno istituito questo premio che si chiama Terra Laboris dal vecchio nome con cui veniva indicata la nostra terra, la terra di lavoro giunto alla seconda edizione che viene assegnato alle eccellenze del territorio di quello che un tempo era il regno e quest'anno siamo stati insegniti di questo riconoscimento per la nostra scoperta del mese di novembre scorso. La premiazione si è tenuta a Pietrelcina, in provincia di Benevento, esattamente a Piana Romana in un agriturismo che si chiama il Sentiero delle Rose che è di proprietà di una exastrofila rosa viola che tra l'altro ricevette il premio nella precedente edizione nel mese di settembre del 2016. Siamo arrivati lì io e Lattanino, abbiamo trovato lì poi anche Fiorentino che è arrivato con mezzi provi, Carmen e Dario che ci hanno veramente onorato con la loro presenza e poi gli altri amici astrofili dell'Associazione di Napoli e naturalmente Nello Rucco. Abbiamo prima di tutto partecipato ad una presentazione dell'Associazione Alta Terra di Lavoro dopodiché alla presentazione del premio e abbiamo potuto anche ascoltare le illustrazioni di tante ditte veramente interessanti che sono state presenti a questa premiazione e che hanno tra l'altro anche sponsorizzato l'evento. Ditte che davvero costituiscono un fuoriore all'occhiello per il nostro territorio perché coltivano prodotti biologici con vecchi metodi e anche per mantenere vive le nostre tradizioni aneogastronomiche. Alla fine poi c'è stato il momento della premiazione con una nostra breve presentazione e alla fine un momento conviviale all'aperto molto simpatico, molto apprezzato. Il premio consisteva in una cornucopia fatta a mano dai maestri presepiai di San Gregorio Armeno e una serie poi di omaggi personali che sono stati offerti dalle ditte che hanno sponsorizzato l'evento. Cosa dire in conclusione? Le immagini del reportage messi a disposizione da Dario sicuramente parlano più delle mie parole ma è stata comunque una piacevole giornata, una occasione per stare insieme, una bella soddisfazione non tanto per me quale persona fisica ma per l'associazione, per l'osservatorio e quindi questo ci deve spronare a migliorarci sempre di più, a continuare le iniziative che stiamo svolgendo anche le forme di ricerca e di collaborazione con altre associazioni. Proprio in tal senso l'incontro è stata anche l'occasione per poter concordare con gli altri amici delle altre associazioni, futuri progetti nel settore proprio della ricerca delle stelle variabili. Permettetemi però di ringraziare soprattutto Fiorentino perché se non fosse stato per lui non avremmo ricevuto questo riconoscimento. Grazie al suo impegno è stato possibile diventare visibili per questa associazione e quindi poi ottenere questo ambito riconoscimento. E per voi tutti l'invito è di stare sintonizzati perché nelle prossime settimane ci saranno degli eventi che stiamo già predisponendo ed organizzando per ritrovarci tutti insieme e condividere la nostra passione per l'astronomia. Quindi detto questo vi auguro un ottimo pomeriggio, una buona giornata e ci risentiamo presto.